Ci riprendiamo la linea, allora Federica ti sei veramente ristabilita, guarda, funziona quasi... Hai cambiato espressione, dai. È quasi miracolosa la prunia secca in bocca, veramente. Che poi è il nocciolo allora a questo punto che funziona. Se si pensa che la medicina ufficiale non sa fare nulla contro il raffreddore, nulla. Vi propone tutto quanto, dagli antibiotici agli spray basali. Raffreddore è incurabile, è vero, sì. Quindi basterebbe, a parte le persone di gruppo 0, che è meglio rifilargli delle mandorle e se non tolgono le mandorle le nocciole, rifilare a tutto il resto, gruppo A, B e AB, una prunia secca. Quando hanno il naso tappato, dopo mezz'ora li si stappa al naso. Oh, non sappiamo spiegare perché, ma funziona. E questo sarebbe il compito della cosiddetta scienza, della ricerca. Stasera cominciano a rastellare su stramiliardi e almeno se arrivassero a capire da dove è origine il raffreddore. Se la ricorda la domanda che avevamo posto prima della pubblicità? C'è un nesso tra il nostro istinto, l'amore e la nostra alimentazione? E beh, certamente. Il discorso che individuare una persona, la persona con cui unirsi, con cui poi riprodursi, con cui portare avanti eventualmente la propria vita, che poi ci possono essere anche quelli che appunto preferiscono continuamente cambiare, e fa parte dello sguardo, della voce, fa parte del sudore, tanto per dire, Federica, che ha il naso tappato e sicuramente la sua voce viene percepita diversamente che se avesse la voce squillante, bella, libera e non ovattata dalla presenza di muco. Per il fatto che si è mangiato lo yogurt e si è trovato il naso tappato. Se avesse mangiato delle filetti di merluzzo non avrebbe avuto il naso tappato. E questo qua è solamente un aspetto per cui magari fa percepire la persona in un modo diverso. E certamente il cibo è fondamentale. Ma siccome il cibo è quello che può veramente far cambiare e anche alterare il DNA, e prima o poi arriveranno a capirlo, che i geni non sono stampati nell'acciaio e dureranno eternamente. I geni sono un qualcosa che si modifica nel tempo. Ma nel corso di una vita umana o nel corso degli anni, delle generazioni? E neanche nel corso della vita umana. Della nostra vita stessa. E per forza. Infatti ne avevo parlato nella trasmissione precedente, credo, di questa ricerca che è stata fatta in Inghilterra, che avevano prelevato dei campioni da varie persone, campioni del loro DNA. E dopo 15 anni hanno ripreso i campioni di DNA dalle stesse persone e hanno visto che erano avvenute, sono avvenute, delle modificazioni nel DNA. Come mai? Che cosa è successo? Il clima? L'ambiente? Gli agenti esterni? Le sostanze chimiche? L'inquinamento? E perché no? Anche il cibo. Questo dovrebbe essere il compito della vera scienza. Capire che cos'è che può far modificare il DNA delle persone. Perché proprio adesso che si sta portando avanti molto il discorso della ricerca genetica, anche per scoprire la causa di tutta una serie di malattie, se si capisce che questi geni sono modificati dal cibo, a un certo punto anche tutta la ricerca che viene fatta per poi proporre tutta una serie di terapie, di cellule staminali, vi dicendo, salta per aria. Perché se poi questo DNA viene di nuovo modificato e che va a riproporre di nuovo delle malattie, siamo da capo. Invece bisognerebbe capire, arrivare a capire chi non fa avere delle variazioni, soprattutto variazioni patologiche, che possono portare ad avere patologie al nostro DNA, insomma, al nostro genoma. E comunque il cibo è fondamentale. Ma se può essere visto questo fatto proprio con i nostri similissimi parenti stretti mammiferi, insomma, tutti gli altri mammiferi, soprattutto quelli degli allevamenti, il loro comportamento sessuale, il cibo, un determinato cibo li fa sviluppare in un certo modo, un altro cibo li fa sviluppare in un altro modo, ma anche dal punto di vista sessuale, ma anche dal punto di vista dell'attrazione, anche sotto tutti gli aspetti del comportamento e tutto quanto. Addirittura ricordo di aver letto in passato che un determinato cibo assunto, prima dell'atto della procreazione, può determinare il sesso del nascituro. Questo mi sembra un filettino eccessivo, però vabbè. Sì, ma queste sono, infatti, ma queste cose... Stai nella logica che noi siamo quello che mangiamo, chiaramente può avere anche modificato l'incontro dello spermatozoo e dell'ovulo. Lo so, adesso però stiamo scendendo in campi anche fin troppo... No, no, ma sicuramente, come se si pensa che, tanto per dire, basta vedere quante donne hanno problemi in età fertile, in età di procreazione, hanno problemi al loro utero e soprattutto all'ovaie, con ciste ovariche, come mai è successo, tanto per dire, a cosa può... E praticamente il cibo non viene mai preso in considerazione, viene preso in considerazione solo ed esclusivamente da quei pochi, rarissimi ginecologi o medici che, bene o male, capiscono che anche il cibo può incidere sulla formazione di queste patologie. O lo stesso sugli spermatozoi, ma lì sugli spermatozoi lo si vede ancora più rapidamente, ancora più rapidamente che non sull'ovulo, sulle ovaie femminili, insomma. In quanto che nel giro di pochi mesi, di due o tre mesi, qualsiasi uomo che ha problemi di spermatozoi con un'alimentazione corretta, i suoi spermatozoi diventano più che sufficienti, più che validi per poter permettere la procreazione. Ecco, e quindi è lì solamente il cibo che può incidere in questo modo qua. Altrimenti un uomo viene dato per spacciato, se un uomo si trova ad avere un basso numero di spermatozoi e in quel basso numero lì ce ne sono, la maggior parte che sono senza testo, senza coda, o che sono ipomobili, vi dicendo, praticamente quel povero uomo lì non potrà avere nessuna possibilità di procreare, se non andare nei centri dove gli prelevano lo sperma e poi tengono buoni quei pochi, rarissimi spermatozoi, che diventa una cosa più complicata. Oppure dove c'è una donazione esterna, insomma. E invece si potrebbe benissimo risolvere facendo cambiare l'alimentazione, tanto è una cosa che scatta nel giro di due, tre, quattro, sei mesi al massimo, si vede se la storia funziona oppure no. E poi il cibo, appunto, che è il cibo. Attraverso il cibo si hanno poi come conseguenza le nostre sudorazioni. Attraverso il cibo si può avere anche lo sguardo, lo sguardo attento o non attento. Provate a dare da mangiare delle cose di un certo tipo, tanti farinacci alle persone, queste persone avranno poca energia, poca capacità, ad esempio, ad avere l'attenzione, ad avere forze proprio continue. Invece se gli date da mangiare tante verdure e le proteine giuste, queste persone saranno molto più attente. Anche perché c'è da dire che tutti questi meccanismi su cui si basano le nostre funzioni biologiche sono basate sulle proteine, sui sali minerali e sulle vitamine. I carboidrati, quelli che tanto vanno di moda adesso, che praticamente ce li propongono e ce li propinano in tutti i modi, dalle colazioni fino alle cene, passando lungo l'arco della giornata, con gli edulcoranti, con i dolcificanti, soprattutto quindi i cereali, lei dice, per carboidrati intende quelli, perché carboidrati ce ne sono comunque anche nella frutta. Carboidrati ce ne sono, sì, ecco, gli amidi, giusto appunto, è meglio parlare di amidi e non di carboidrati, che i carboidrati comprendono anche gli zuccheri, gli zuccheri presenti nella frutta, i vari dolcificanti, i vari tipi di zuccheri, dal miele, al zucchero di canno, vi dicendo. Quindi un'alimentazione scorretta può anche falsare proprio questo nostro istinto a trovare il partner allora? Ah, ma senza dubbio. Può cambiare, ma basterebbe che facessero queste valutazioni, potrebbe essere fatto benissimo su animali d'allevamento, ma sia dei mammiferi, sia anche sui pennuti, sia sugli uccelli, ecco, si potrebbe benissimo... Io mi dicono che...